Il coro di San Filippo Neri ha partecipato a diverse rassegne e concerti nel territorio della Diocesi di Roma e quest'anno è la seconda volta che siete qui a Cantateigni con Arte. Sì, anche quest'anno abbiamo avuto la gioia di essere selezionati per la finale, l'anno scorso abbiamo partecipato con il brano inedito e quest'anno partecipiamo con il brano edito, siamo felici di essere qui anche quest'anno a poter portare la nostra testimonianza in musica e nel canto. Avete scelto di partecipare con il brano edito Io sarò con te, perché proprio questo brano? Allora abbiamo fatto questa scelta, diciamo che innanzitutto che il nostro coro prevalentemente sceglie i brani di Don Marco Frisina, anche proprio perché personalmente, essendo anche io la direttrice, adoro Don Marco come autore, adoro tutti i brani di Don Marco. Abbiamo scelto in particolar modo questo brano per due motivi, prima di tutto perché poteva mettere risalto le nostre tre voci solisse. Noi abbiamo tre voci che sono appunto due tenori, Carlo Palmigiani e Carlo Mancini e un soprano che è Claudia di Carlo e quindi abbiamo fatto cantare anche loro, quindi le metteva appunto, ripeto, in risalto le loro voci. Quindi abbiamo scelto innanzitutto questo brano per questo, ma poi soprattutto per il testo del brano, perché il testo del brano io lo adoro particolarmente perché nei momenti di difficoltà e purtroppo chi è che non ha dei momenti di difficoltà, anche se l'uomo vuole essere forte, però in fondo è debole e io sarò con te proprio nel testo, io sarò con te, sarò la tua forza, sarò la tua luce, sarò con te sempre. Sembrava poi fatto apposta anche perché da gennaio che abbiamo fatto la nostra registrazione fino a questo periodo, in realtà il nostro coro è stato pieno di momenti di difficoltà con tante persone, purtroppo tanti coristi che hanno avuto tante difficoltà anche a livello fisico e di malattia e sembrava proprio che avessimo scelto questo brano ad hoc perché la vicinanza del Signore ci ha aiutato e ci ha fatto arrivare qui in finale con io sarò con te, quindi sarà la nostra forza anche questa sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.